Allora per noi Smart Comfort e in particolare per la marca Hermanson Duval vuol dire, proprio detto in italiano, tanta acqua calda subito vuol dire non lasciare mai un disservizio per il consumatore finale e garantirgli il massimo comfort purtroppo sono cose che succedono, se non si hanno prodotti a posto o di un certo livello qualitativo, l'acqua calda manca sempre un momento necessario Con noi invece c'è tanta acqua subito, questa è proprio la traduzione del comfort che noi intendiamo con la marca Hermanson Duval E quindi anche risparmio energetico, meno spreco Risparmio energetico, certo, questo è tutto quello che c'è dietro a questo slogan che mi piace dire perché è veramente intuibile da tutti, però c'è risparmio energetico, c'è massime performance c'è una garanzia proprio di continuità, di livelli prestazionali della macchina e quindi che si traduce proprio nel consumatore, nella soddisfazione e nel comfort percepito dalla gente